L'apertura del nostro notiziario ci porta a parlare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 con una buona notizia. Si parla di uno studio realizzato congiuntamente tra l'Asl di Pescara e l'Università di Ferrara che hanno valutato gli effetti della campagna vaccinale in provincia di Pescara. I vaccini sono efficaci e tutto questo è dimostrato dal calo dei contagi. Ma per saperne di più ci colleghiamo in diretta da Pescara con la nostra Marina Moretti. Marina, buongiorno a te e al tuo ospite. Buongiorno a te Anna, al mio ospite prestigioso e tra l'altro che voglio subito ringraziare perché è stato estremamente disponibile assolutamente in diretta da Pescara con il professor Lamberto Manzoli che si è occupato appunto di questo studio che ha messo in collaborazione l'Asl di Pescara con l'Università di Ferrara suo luogo di appartenenza per valutare l'incidenza positiva della campagna di vaccinazione e soprattutto il livello di immunizzazione raggiunto. Insomma per dirla in soldoni tante persone dicono vabbè mi faccio il vaccino ma mi posso anche poi rinfettare. loro hanno capito intanto se e come e quanto ci si può rinfettare ma si cerca anche di sapere di più cioè nel caso in cui si ricontrae il virus da vaccinati che cosa accade? È un virus che rende solo positivi? È un virus che può far male? E poi tante altre cose di cui parleremo dopo perché io voglio capire oltre a questo studio il futuro insomma cosa c'è ancora da valutare di questa malattia che comunque va continuata a seguire anche perché c'è più tempo adesso come percorso diciamo del covid all'inizio non lo conoscevamo quindi era tutto da scoprire adesso tante cose in più le sappiamo. Ma cominciamo dallo studio professor Manzoli chi è che ha avuto quest'idea di seguire dei pazienti è proprio tra l'altro di Pescara non parleremo di fatti privati ma insomma Pescara a lei è particolarmente cara. Sì io vivo a Pescara ho lavorato per anni all'AS di Pescara ovviamente e lo studio è partito come collaborazione con il direttore sanitario il dottor Antonio Caponetti e la responsabile dei vaccini ovviamente la dottoressa Graziella Soldato che stanno facendo un lavoro enorme per fare tutte le vaccinazioni anche per la raccolta dati e allora abbiamo pensato dal 2 gennaio stiamo vaccinando di verificare avendo un po' di tempo finalmente a disposizione l'efficacia dei vaccini tutti e tre il Pfizer, la AstraZeneca e il Moderna abbiamo preso tutta la popolazione residente tutti vaccinati e tutti non vaccinati e siamo andati a vedere quanto si sono infettati e ammalati e sono deceduti i vaccinati e i non vaccinati e per fortuna con un nostro enorme sollievo devo dire veramente abbiamo trovato in linea con la letteratura internazionale devo dire dei risultati ottimi perché abbiamo trovato per tutti e tre i vaccini una riduzione del 95% delle infezioni e del 99% addirittura dei casi di malattia. È chiaro che sono dei risultati che hanno poco tempo di follow up è chiaro e dovranno essere confermati però è assolutamente improbabile che in futuro potranno discostarsi di tanto potranno magari scendere dal 99% al 95% al 93% ma non andranno sotto a delle grandi quote posso precisare una cosa non solo che il vaccino dunque funziona i vaccini perché c'è lei ha citato AstraZeneca e lei sa quante perplessità ci siano su questo vaccino invece? Sì era uno degli altri elementi importanti infatti è proprio questo l'aspetto che tutti e tre i vaccini hanno funzionato veramente molto sono stati leggermente efficaci ribadisco abbiamo fatto sia l'analisi delle due dosi quindi con due dosi questi sono i risultati ma anche una dose di AstraZeneca è stata comunque molto efficace e ribadisco in linea con la letteratura internazionale in Italia il primo studio era importante capirlo ora per cercare di rassicurare le persone sull'efficacia Dicevo prima il futuro adesso cosa c'è da studiare che sia in relazione con questo studio o non in relazione ma sempre con il Covid ovviamente? Sì in futuro dovremo ovviamente ripetere queste analisi tra un paio di mesi avendo un follow up più lungo e anche stiamo cercando di capire stiamo facendo l'analisi adesso quanti sono i casi di reinfezione cioè quanti sono i guariti che poi hanno preso di nuovo l'infezione perché dovrebbero essere pochi però dobbiamo verificarlo per bene e l'ultima cosa dobbiamo verificare se quanti sono i casi di malattia che sono insorti durante il ricovero ospedaliero Questi sono tutti dati molto importanti ripeto anzi ricordo che questo studio ha certificato diciamo così l'efficacia al 95% almeno della vaccinazione bisogna fare di più e studiare queste altre cose di cui lei ha parlato poco fa io aggiungo ci sarà anche uno studio o secondo lei andrebbe fatto o è già stato fatto sui decessi proprio sulla tipologia delle morti? Sì l'hanno fatto tanto gli istituti superiore di sanità il punto è che sono stati dei numeri talmente grandi che non è facilissimo capire i dati degli istituti superiore di sanità dicono che comunque il 95% dei decessi covid sono correlati al covid però non è facile capire perché l'età è molto avanzata di molti di questi insomma è un aspetto difficile però sicuramente il covid c'entra Allora io ringrazio il professor Lamberto Manzoli Anna non so se hai domande da studio o curiosità lo so che i nostri tempi sono ridotti Sì abbiamo tempi sicuramente un po' ridotti perché le notizie da dare nel corso di questo TG sono naturalmente tante naturalmente Marina sarai libera anche di approfondire questi argomenti con il tuo ospite magari riportarci poi altre novità nel corso del collegamento di questa sera perché poi avremo con te un'altra diretta nel corso del TG delle 19.30 con il consueto bollettino dei dati covid ti ritroveremo lì Benissimo allora permettimi di ringraziare ancora il professor Manzoli e di restituirti la linea